Ma do una palla di setto Io 16 pari Palla No figa, io è proprio la bucciata di qua No, 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 ho giocato a male perché mi sono già fatto male Ah, schifo sto palleggio Magari gli tiro una manata in ghigna Non è attiscato in una palla del genere No No Ma era tua quella palla lì? Sì Boh, non so eh Zero Ottimo Ma non devi fare la rincorsa corretta, non dritta Che è sinistro, destro, sinistro Corretta Buono eh 20-16 Palla Ottimo Questa sì che è un'alzata 20-17 C'è solo un po' di differenza tra le due, hai visto? Poca eh Sì Vieni via Zero L'imbarghera è perfetta Dai, 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 dai 20-18 Dove? Sì Palla Via, 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 via 20-19 Vediamo, questa va presa, su Sì 20 pari 20 pari Porto cane Scusa Sì, palla La butto di là Si arriva con il 21-21 No, si arriva, è un sentitere, si arriva ai vantaggi 21-20 Ha butto di là la palla Ma che cazzo fa quello di uno scemo di badona di Dio, degli ingegneri Siamo noi c'è con il divano 21 pari Ma perché stacchi? Sì, palla Grande battuta 22-21 22 pari 22-23 Ottimo attacco Schifo d'attacco Io non lo capirò mai Sono basito Allora, quello che in realtà mi infastidisce È che lui è convinto Che possa far punto E o mettere in difficoltà gli avversari Con un metro e cinquanta di uomo Che fa un bagger da sottorete Cioè Lui è fortunato che se l'allenare con voi Comunque sia Non è che siete fortissimi Perché se se l'allenasse a un livello leggermente più alto Lui sarebbe morto al primo allenamento Che arriva un bagger Poi ha la cavità toracica Incastrata a forma di pallone Bella copertura La carta pari Bravo Questo è molto bene 24-23 Shot Eh però Si è mosso benissimo E poi ho detto Vabbè ma ci sono fasce Fammi essere un po' superficiale E infatti Ma lo so L'avevi letto in una pia Sto perfetto era stato 24-25 Vai raga dai 25 pari Si Palla 26-25 Grande alzata Io non vi capisco 26 pari Ma non lo chiudere a tutto braccio Ha fatto l'alzata di rimedio Stendi il braccio Ma è solo forse E' punto tuo Palla Apri Ligna Arrivata Dietro vicino Vicino Io Fuori 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 eh Fuori 27-26 Fuori Fuori Inbottita Imanchio Fuori Una volta che avete creato la situazione ideale per far punto, basta tirare la palla, non dovete fare di più. Il vostro l'avete già fatto. 27 pari. Palla. 28-27. Occhio la palla, Vanni. Il punto che abbiamo fatto lì su tutto. È fuori. È fuori, è fuori. 28 pari. Palla. Ce l'hai, ce l'hai? Fini un po' più vicina, tutti e due si allargano troppo. 28-29. Doppio e palleggio, vincono. 30-28. Cambio coppia, palloni. È devuto 9 match point. No, loro non hanno avuti due. Due? Palla. 4 li hanno tirati via lì, Gianni e Pinotto. Sì. Palla. 16-15. Ottimo tempo, Arici, bravissimo. Continua a stare così. Palla. Ok. Davanti a te la ricezione. Davanti a te la ricezione. Sennò rendi tutto molto più difficile. 17-15. Palla. Dicino. Minacca. Pagli. Iniziamo anche mai. 17-16. Verso gli angoli di fondo campo. Ok. L'attacco negli angoli di fondo campo, non qui in corta. Non c'è nessuno perché era un colpo che non potevi fare. Se ti entrava era culo. Davvero? 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 18-16. Andiamo a te. Radrizzi l'asta per piacere. Andiamo qua, eh. Sì. Alla. Bella battuta. 19-16. Il giocatore come fa? Dovete spingere lontano dal campo, non vicino al campo. Lui è facilitato a ricevere corto, non lungo. Esatto, vedi? Lui non ha movimento di piedi. Quindi appena lo spingere lontano dal campo, lui deve girare il busto e ovviamente è scornatissimo. Alla. Cambio coppia. Cambio coppia. Grande. Pallo in palleggio, Mazzoleni. 15-16. Muro molto bello. Scusami. Non ho capito. L'emozione è che continua alzata in qui. Non può mai essere buona. Sì, sì. In simmetria è completamente sbagliato. Cioè non provo neanche a maschere di star facendo falda, è quello che secondo me è grave. Fuori? Ancora. 15-17. Zero. Non zero, dai la chiamata. Ecco l'altro. Le gambe. Bravo. Perfezione. Grazie. 16-17. Guarda che non è interessante che il batterio dell'idea quando hai percorrere a muro. Perché gli scambi li fate molto lunghi. Allora abatti più preciso piede a terra e poi fai una buona posizione di muro. 16-18. Lo metti in difficoltà con la massima della precisione, però almeno sei di riferimento a muro. Ok? 16-19. Palla in palleggio, carta pane. 17-19. Trasportata e doppia. Che si vede? Vamos, eh? Zero. E' bravo. No, è stato bravo lui che ha recuperato con la ricorsa d'attacco. 17-20. Lo stacco era giusto. Sono molto bravo. Vicino. No, no, no. 18-20. Accompagnatevi le alzate con le gambe. Se no fate fallo di palleggio e poi vi sbagliate la precisione di alzato. Sì. Grandissima battuta. 21-19. Stop. Accompagnatevi. Enric.